L'Ucraina ha cercato di richiamare l'attenzione internazionale sulla Crimea, la penisola occupata dalla Russia dal 2014, tenendo mercoledì a Kiev la quarta edizione della piattaforma Crimea. Vi ha partecipato una sessantina di leader, tra cui il presidente lituano Nauseda, il segretario di Stato USA Anthony Blinken e in video messaggio la premier Giorgia Meloni. Inoltre, premusiamo la Russia per la realtà, ma anche per l'attività internazionale, per le salle di solidarietà, ma anche per la necessità di rinnovare per l'Ucraina piena справедливость e, inoltre, un vero per la nostra terra, per tutti i nostri. Zelensky ha avviato questo format diplomatico nel 2021 per discutere la reintegrazione della Crimea nell'Ucraina e poi l'attuazione della strategia di pace proposta da Kiev. In questo senso, il presidente ucraino ha ribadito che in eventuali negoziati con la federazione russa non verranno scambiati territori né popolazione. A margine del vertice è stato inaugurato a Kiev un memoriale dedicato alle vittime della deportazione in Crimea del 1944.